La grande emozione stasera è eseguire il concetto numero 17 di Mozart con questa giovanissima pianista, Beatrice Di Stefano, un talento eccezionale che ha debuttato stasera con questo concetto di Mozart, la sala fantastica, il pubblico straordinario, grande grande emozione. Con un pubblico pagante di 500 persone il quarto appuntamento della stagione sinfonica 2022-2023 del Teatro Sociale Caeli e Buster Sizzi è stato un successo. Grazie. Grazie.